Inizia il conto alla rovescia per la notte più spaventosa dell'anno, Halloween. Zucche spettrali, teschi, scheletri e il trick-o-treat, ossia scherzetto o dolcetto, saranno i protagonisti di numerosi eventi a tema che si terranno in città e andranno avanti fino al sorgere del sole. Una festa di tradizione americana ormai sempre più diffusa anche in Italia. Forse però non tutti sanno che è Halloween. Detta anticamente Hall of Even, ovvero la vigilia di tutti i santi, prima di diventare un'occasione per divertenti trasferimenti in puro stile horror accompagnati da una grande quantità di dolci, caramelle e leccornie ad alto tasso zuccherino, era il modo in cui le antiche popolazioni celtiche dell'Europa nord-occidentale celebravano la fine della bella stagione e del periodo del raccolto dei campi. Dunque la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre segnava la fine dell'estate, ma anche, secondo la credenza popolare, il momento in cui dalla sera e per tutta la notte le anime dei morti tornavano sulla terra in cerca di nuovi corpi da possedere, accompagnandosi a streghe, demoni e fantasmi. Mentre i contadini spegnevano il focolare per allontanare questi spiriti, gli abitanti dei villaggi accendevano fuochi, indossavano costumi rituali e offrivano cibi agli spiriti al fine di conquistare la loro benevolenza, per fare in modo che le aiutassero a troscorrere in serenità la stagione fredda. Il mattino, dopo aver acceso il fuoco nuovo, scendevano nei paesi e facevano il giro delle case portando le ceneri ardenti del fuoco presso le famiglie affinché tutti potessero riaccendere il focolare familiare. In questa occasione chiedevano delle offerte per il loro dio e proferivano delle maledizioni in caso di rifiuto. Da qui il trick-o-treat, offerto maledizione, e le famose rape, oggi zucche, nelle quali bruciava il fuoco sacro. Per la chiesa, Halloween, così come intesa nella tradizione americana, è una festa anticristiana che sconvina nella magia e nel satanismo.